Il Prato alla primo di quattro elementi, Cucurullo, Vitone e Baldassarre infortunati e trafficante squalificato esce sconfitto alla prima di campionato contro il Moscufo, che ha dimostrato di avere una discreta organizzazione di gioco, tanto da riuscire a vincere come vedremo anche in inferiorità numerica. L'incontro si gioca al Nardangelo di Pianella per l'indisponibilità del campo di Moscufo. I locali di Marco Ciannavei si rendono subito pericolosi, al secondo Filippone spedisce in aria il pallone che Panico prova a correggere il rete, ma il tutto si conclude fortunatamente per il Pratola con Casasanta che alla fine manda in corner. La risposta dei nerostellati arriva al dodicesimo quando Sabatini prevale rispetto a Del Coco e De Collibus, scambia con De Carolis e il suo diagonale si rende insidioso. Al quindicesimo si distingue l'estremo difensore del Pratola Carosa che riesce ad opporsi degnamente a Filippone. Al ventiquattresimo il Moscufo è sfortunato in quanto non segna portiere battuto. Filippone apre per Coppa che mette in mezzo per Medori, la palla colpisce la traversa e dopo la ribattuta a terra non varca la linea di porta. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il Moscufo resta in dieci per l'espulsione di Dell'Elce che dopo un fallo su Sabatini rimedia il doppio giallo e la conseguente espulsione. Nella ripresa con un uomo in meno sono però i locali a fare la partita. Al quarto prima Cassasante chiamato a respingere una conclusione di panico e poi arriva il gol del Moscufo. Al quinto Coppa è ben servito al limite dell'aria e conclude positivamente con la palla che penetra all'angolo basso alla sinistra di Carosa. All'undicesimo il Moscufo raddoppia, Medori conquista palla e si dimostra un grande lottatore. Si porta al tiro con il sinistro con la palla che viene deviata da Cassasanta e trae in inganno Carosa. Il Pratola prova a reagire con una conclusione al quindicesimo di Crasnici appena entrato. Il Moscufo poi prova di nuovo a pungere con una punizione di Coppa e una conclusione di panico. I nerostellatici provano invece al trentaduesimo con Tiberi su punizione. Al quarantaduesimo il Moscufo cerca la terza rete ma Bassano dopo una punizione anticipa Di Zio che era pronto a spedire rete. Successivamente Napoleone servito con un assist dalla sinistra di panico manda alto. Al novantesimo esatto il Pratola con Crasnici che recupera palla ed appoggia per Di Giammarino. Il suo diagonale non viene però corretto in rete da De Carolis che manca così l'opportunità di riaprire il confronto nel recupero. L'ultimo a fondo del match è di marca nerostellata che si conclude con il tiro della disperazione di Sabatini. Finisce 2-0 per gli uomini di Ciannavei. Fino a che eravamo 11 contro 11 abbiamo avuto tre occasioni da gol nettissime. Non siamo stati bravi a sfruttarla anche se le azioni sono state ben congeniate. La preoccupazione mia dopo l'espulsione era il fatto che potessimo soffrire quel problema lì, il fatto che non avevamo fatto gol e che potevamo prenderlo. Invece la squadra ha reagito in maniera fantastica e anche nel secondo tempo non abbiamo mai sofferto gli attacchi del Pratola. Siamo andati in vantaggio con Coppa. Poi il secondo gol sicuramente è stato fortunoso però credo che la prestazione sia stata bellissima. Il Pratola non riesce a sfruttare la superiorità di Goccia. Un peccato perché nel primo tempo la formazione nerostellata era riuscita a reggere nel migliore dei modi la formazione locale. Poi nel secondo tempo abbiamo visto quel che è accaduto con questi due gol venuti subito all'inizio. Poi il raddoppio è stato un infortunio con quella deviazione di Casa Santa. Sì abbiamo fatto non un buon primo tempo però abbiamo retto bene solo che poi nel secondo tempo l'hanno sfruttata loro l'inferiorità numerica. Dovamo sfruttare noi non l'abbiamo sfruttata. Avrò sbagliato io qualcosa e vediamo in settimana di poter lavorare e rimediare su qualcosa.